Ciao Simo! Ciao! Come mai quel sorrisino? Ho trovato il segreto per mangiare e bruciare i grassi insieme. Dai spara! E' fare il mangiafuoco! Ma no! No! Ciao amici! Non so se ve l'ho detto ma mi trovate anche su Instagram, Facebook. I link sono in descrizione insieme agli altri social. Seguitemi! Oggi vediamo insieme i 5 migliori snack brucia grassi da portare sempre con voi. Ma com'è possibile che un alimento bruci i grassi? E' una bufala! L'argomento è controverso, lo capisco, ma in questo caso non è una bufala. Ecco come funziona. Gli snack con la giusta quantità di calorie e qualità di nutrienti aiutano a mantenere il metabolismo attivo e a bruciare i grassi. In che senso? L'organismo deve spendere calorie per digerirli e metabolizzarli. Già questo aiuta a bruciare i grassi. L'importante è che contengano almeno uno di questi elementi importanti. Proteine, grassi buoni e fibre. Le proteine sono il nutrimento per i muscoli e aiutano a costruire massa magra al posto della massa grassa. I grassi sono il carburante fondamentale perché senza di loro il metabolismo si ferma e le fibre impegnano il metabolismo a zero calorie, quindi aiutano a bruciare i grassi. Ovviamente è il corpo che brucia i grassi, come ho spiegato in questo video. Ma se il corpo è il motore del metabolismo e del brucia grassi, il cibo che mangiamo è la benzina che lo alimenta. Ah, è come quando andiamo sulla nostra auto sportiva vintage e bruciamo la benzina. Giusto! Migliore cibo, migliori performance e se vi piace l'idea di sapere sempre cosa mangiare, sciogliere più grassi possibili e stare sempre in forma, mettete un bel mi piace a questo video! Tanti mi piace, tanti nuovi video! Bene, ora vi dirò non solo quali sono i migliori snack, ma come li abbino io per ottenere i miei spuntini preferiti, delle combinazioni deliziose e doppiamente bruciagrassi. Adesso però, se non lo avete ancora fatto, iscrivetevi al canale, è facile! Basta un click così e attivate la campanella delle notifiche per essere i primi a vedere i miei video. E ora vediamo gli snack! Iscriviti al canale! Buonissimi! Posso mangiarli tutti insieme? Mi sembra troppo! Se ne può scegliere uno al giorno, quindi tutti nell'arco della settimana! Fate come me! Io non esco mai di casa senza uno di questi cinque snack! Mi assicuro di averne sempre in casa, li tengo nel mio reparto spezzafame, in frigo o in dispensa. Io li metto nella mia vaschetta da viaggio e via! In borsa con me! Fatelo anche voi e nei commenti scrivetemi le vostre esperienze con questi spezzafame e ovviamente scrivetemi se ne avete altri di preferiti che sono curiosa! Per aiutare i vostri amici a bruciare più grassi ogni giorno condividete subito questo video con loro sui vostri social, facciamo grande canale insieme! Condividete! Io vi aspetto al prossimo video! Nel frattempo sempre trendy e sani con Simona Vignali naturalmente! Ciao! Ciao! Buone Alice! Buone! Olive e pomodorini! Caboni, i miei preferenti!